Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare le mie magliette Mi raccomando appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi E adesso vi lascio il video, buona visione Hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della Vanilla Da come avete letto dal titolo oggi inizieremo del tutto il progetto del Mega Aquario Sarà un progetto veramente grandissimo come dal nostro solito E per questo video vi ho messo di lasciare un pollicione in su Cerchiamo di superare i 3812 like per questo video Mi raccomando tutti quanti adesso di lasciare un pollicione in su Schiacciate il bottone dei like E detto questo se ancora non vi siete iscritti al canale del video Iscrivetevi cliccando la campanellina e direi possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui Come detto nella intro oggi inizieremo il progetto del Mega Aquario Sarà un progetto che non so ancora quanti episodi prenderà Ne potrà prendere due come tre come anche quattro perché Adesso andando a ricapitolare per bene il progetto vi farò capire il perché ci metteremo così tanti episodi Di più non tanti episodi ma io ci metterò tanto tempo e quindi verrà diviso in tanti episodi Questa qui da come ti dice uno scorso episodio è l'entrata del Mega Aquario Tutto il Mega Aquario ragazzi sarà lungo questo percorso e avremo acqua sopra, sotto, sinistra e destra Quindi sarà uno di quegli acquari Cercherò di mettervi l'immagine qui da qualche parte per farvi capire meglio Dove vedete c'è il tunnel che passa proprio dentro l'acquario Quindi noi poi avremo le tartarughe, delfini, i pesci che ci vanno da sopra, destra, sisti, insomma avete capito Fino allo scorso episodio e questa qui è un'altra parentesi Erano tutti i video ragazzi pre-registrati, li ho fatti circa una settimana prima di quando è uscito il video Ed è per questo che non ho potuto seguire molti dei vostri consigli Ma adesso che sono tornato dalla mia bellissima vacanza Rieccoci qua di nuovo, super attivi Allora, non so ancora come suddividere per bene tutto il lavoro Perché ragazzi c'è tanta cosa da fare, ma veramente tanta 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 E prima cosa direi di fare la seguente Noi dovremmo fare il tunnel Dopo aver fatto il tunnel dovremmo fare un punto principale Dove mettere le seal lantern per illuminare Dopodiché ci sarà la parte più pallosa Sarà la parte che voi non vedrete subito, cioè non vedrete Che sarà la parte dove mi metto a scavare tanto O più o meno queste dimensioni stavo pensando Verso questa direzione 20 blocchi Verso questa direzione circa 10 blocchi E poi per tutta la lunghezza Fino alla fine Questo cosa vuol dire che noi andremo a scavare Tutta la cacchio di montagna E sarà una cosa più... Ah, naturalmente c'è anche sotto Sotto si parla di quasi 10 blocchi Quasi 10 blocchi, sì E sopra altri 10 Considerando che farò uno strato tipo 5 strati d'acqua E poi almeno 5 se non 7-8 strati d'aria Per i delfini Perché come si vede i delfini devono prendere aria Quindi sì, ufficialmente da oggi prenderà il progetto del mega acquario Adesso io non so se fare poi degli episodi tutti di fila Ovvero oggi lo iniziamo, domani tireremo a metà E tipo nel prossimo episodio ancora lo finiremo Quindi fare tutti di seguito Oppure se fare cose random Nel senso oggi faremo parte dell'acquario Nel prossimo episodio faremo qualcos'altro Poi di nuovo l'acquario, cioè se alternarli o meno Non lo so ancora Poi se ne farò un misto completo Perché come sapete faccio sempre danno Bene, la prima cosa che ci serve ragazzi È il vetro Qua dentro noi dovremmo avere un bel poco di vetro Di sicuro non ci basterà Perché l'abbiamo utilizzato per fare anche altre cose Vi ricordate che ho preso il vetro per il progetto dell'acquario? Bene, se non sbaglio Ripperoni ha fatto A meno che non sta qua dentro Ah no, ok, ok Dai, qua dentro c'è qualcosina Ecco, se vi state chiedendo Ma che ci fanno le foglie queste cose qui? Vi spiego subito Off camera Sono andato a farmare altri blocchi di prismarine Soprattutto ad ammazzare diversi guardian Per ottenere le shard Se si chiamano così Non me lo so già dimenticato Per fare appunto tutti i blocchi di prismarine Ok, prendiamo tutta tutto il vetro E ragazzi Come vedete qui abbiamo tutte le ceste più o meno ordinate Ceste sono un attimo invertite Dovrò sistemare Non so quando lo farò Non lo farò mai Non lo farò mai Già lo so E qua dentro ragazzi Volevo fare tutta una ceste inerente Al mondo del prismarine Quindi anche mettendo forse i blocchi d'alga Diciamo Diciamo tutta la cosa dell'acqua Quindi Prendiamo soltanto il vetro Che è quello che ci serve adesso E direi di fare la seguente cosa Visto che probabilmente il vetro Non ci basterà del tutto Anche se Oddio Potrebbe bastarci Come non potrebbe Non lo so ragazzi Non ho fatto i calcoli Quindi Sto andando completamente a caso La prima cosa da fare naturalmente È quella di spaccare Tutto attorno Quindi Io prima di tutto ragazzi Dei fare le cose in ordine Spacchiamo E andando tutto attorno Per fare Tutto il tunnel In vetro Tunnel che avrà anche una biforcazione Perché attenzione Io sto facendo il mega acquario Ma non è detto che questo mega acquario In un futuro si potrà espandere Ed è per questo Voglio fare una biforcazione Ammettiamo un tunnel Che poi va sotterraneo Essendo tutto sotterraneo Facciamo tutto un mega acquario Sotterraneo Lunghissimo Fino all'uscita dei pirati Ammettiamo Non si può fare questa cosa Che è un'idea veramente malatissima Ragazzi Quindi voglio fare una biforcazione Più o meno A metà percorso Diciamo che faremo Un tunnel A forma di T Questi episodi ragazzi Mi sa che In alcuni punti Avranno pochi tagli Come adesso Perché appunto Vi spiego molte cose Perché saranno Molto importanti per voi Per capire Cosa sto facendo Comunque Questa parte è fatta Ora possiamo scavare qua sotto Poi volevo fare anche Durante questi video Diciamo Del capitolo Del mega acquario Volevo fare anche Perché delle piccole cose Comunque ci tornano utili Ad esempio Mi sono completamente Scocciato Ogni volta di andare Nell'end O di farmare altri mob Per l'esperienza Per riparare questo piccone Perché si consume Troppo velocemente Perché assi il touch E può tornare utile Per alcuni blocchi Quindi dobbiamo Metterci per forza Unbreaking Il prossimo unbreaking Che troveremo O nel prossimo episodio Di caso mai Lo andremo a mettere Oggi Lasciamo stare Comunque ho fatto quasi tutto Manca ora soltanto Il soffitto Soffitto che arriva qua E continuiamo a scavare Probabilmente Meccheremo punti Quanti blocchi Saranno almeno Qualcosa come Un 4.000 5.000 blocchi Perché Se da qui saranno Un 20 Poi facciamo che Già un 20 per 20 Sono 400 Ma è 20 per di qua 20 per così E 20 Oh mio dio Aiuto Cioè Saranno un sacco di blocchi Ragazzi Ci metterò un casino Off camera Tant'è che Questi video Non penso adesso Questo qua Oppure si Non lo so Avrà taiki Assurdi Quindi Aspettatevi D'inferno Comunque Il tunnel Già L'abbiamo fatto In parte Iniziamo subito Col pavimento Quindi facciamo così E raga Ci siamo quasi Ecco Ne abbiamo missato Allora Forse i blocchi Sapete che bastano Mi sa proprio di sì Comunque Mi avete chiesto Ma come puoi fare Lo zoom Se non hai L'optifine Eccetera 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 Raga L'optifine Ce l'ho E' già uscita Ma è in versione beta O pre O alfa Non mi ricordo Ora E quindi Ho appunto Il vetro connesso Infatti ho detto all'inizio Che aspettavo io L'uscita Dell'optifine In versione quasi stabile Per fare il mega acquario Perché appunto Connetteva tutti i blocchi Eccetera E quindi Li rendeva più belli E infatti Eccolo qua Naturalmente Nel mentre D'entrata la serie Ho avuto anche Altri mini progettini Da fare E quindi Un po' di tini progetti In mega acquario Diciamo Ho avuto un leggero Delay Un leggero ritardo Ciao Emerald Benvenuto Alla tua vanilla Fai minecraft da 5 anni E non ti ricordi Che puoi pensare Torce sul vetro Infatti mi ricordavo Cioè posso pensare A terra Così Ma non appunto Proprio sul vetro Come se si vanno ad appoggiare Così non posso piazzarle Ok Comunque sì ragazzi Come ho fatto? Come ci arriva Di mio piccone qua sotto? Cosa è successo In un secondo? Comunque raga Ho quasi finito Il tunnel Finendo il tunnel Per logica La prima cosa Dovrei andare a fare È quello Di svuotare Tutto Poi successivamente Dovrei fare Le pareti Perché comunque È un acquario Devo fare Delle pareti Non dico un cubo Ma una forma geometrica Sempre O rettangolare O se riesco a fare Proprio un cubo O quello che è Ma perché di nuovo? E intanto Ho finito ragazzi Il vetro Vi sto appunto dicendo Per fare le cose Passo dopo passo Fate il tunnel Dovrei svuotare tutto Dopo aver svuotato tutto Dovrei fare le pareti Con anche le illuminazioni Fate le pareti Ci dovrebbe essere poi La base Poi tutti i dettagli interni E poi Ammazzarsi E riempire tutto Con l'acqua Bene Adesso Visto che abbiamo Comunque Non abbiamo più vetro Doviamo andare nel deserto Per prendere La sabbia Probabilmente Questa serie Sull'acquario Sarà Fatta da episodi Leggermente più lunghi Penso che questi tutti Supereranno i 15 minuti E toccheranno anche i 20 Perché appunto Voglio Spiegarvi tutto Quello che faccio Mentre lo vado a fare Tranne in alcuni casi Come vi ho detto Mentre scavo Comunque adesso Andiamo nel deserto A prendere tanta sabbia Perché ci serve veramente Tanta 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 Per riempirci qua Tutto l'inventario Bene Devo scavare tutto qua Lo sapete che Ancora io non ho trovato Le ossa Cioè I blocchi d'ossa Non li ho trovati Come Gli schetri di dinosauri Diciamo Quindi Un giorno dobbiamo andare A provare la ricerca Anche di queste cose Anche se Sono inutili Ma diciamo Li considero come Tipo obiettivi personali Come il fatto degli advance Mentre che sono Veri e propri obiettivi Lo faccio sinceramente Come obiettivo personale Quindi Trovare anche piccole cose Come in questo caso Ci sta secondo me Cioè praticamente Ho rotto Questa montagnetta E va bene così Di più Ora che ci penso Il fondo Del Dell'acquario Visto che voglio fare Un acquario Molto naturale Come se fosse un bioma Tra virgolette Doverei farlo in sabbia Perché in grave L'è brutto Di conseguenza Mi serve ancora Molta più sabbia Ma la prenderemo Passo dopo passo Ragazzi E prima la prenderò Io off camera Perché se no Per voi sarà Una noia mortale Io che raccolgo Sempre è soltanto sabbia Ok ragazzi Abbiamo un bel poco Di stack di sabbia Ed è di continuare Altri 5 secondi Così Per farci un altro stack Velocemente Tanto come vedete Con la pala È easy Easy Si fa così A zig zag Guardate Non ci vuole nulla Ci vuole assolutamente nulla Comunque raga Questo se vi andrò A dire adesso Mentre finisco Di raccogliere la sabbia Mentre torneremo a casa È una cosa Che andrò a ripetere Diverse volte Nei video Perché è una cosa Molto importante Aspettatevi Verso I primi Di ottobre Un video importante Molto importante Non è un video speciale O qualcosa È proprio un video Importante Non è lo special Di 200.000 iscritti Che mi avete chiesto Perché quello lì Raga Non so ancora Quando arriverà E soprattutto Se mi spacco le gambe Su minecraft Non arriverà mai Ma sarà proprio Un video Importante Importante Vi dico soltanto Questo qui E siamo arrivati a casa Ragazzi Perfetto Metto subito A cucinare La sabbia Opla Mettiamo proprio Quasi tutta Raga Ci serve un sacco di vetro Oddio Forse ormai Di vetro non ce ne serve Tantissimo Perché le pareti Saranno Comun' Ma dobbiamo fare Anche l'altra parte Di tunnel Ora che ci penso Perché tutti dobbiamo Farlo a forma di T Bene Questa sabbia La conserviamo qua Ragazzi Un altro stack Guardate Per sicurezza Lo metto a cucinare E ora continuiamo A scavare Appunto Per fare L'altra parte Di tunnel Voglio fare Più o meno In questo punto L'altro tunnel Che vi dicevo appunto Prima Quindi continuiamo A scavare qua Non so Per almeno Una ventina di blocchi Ora non so Quanto saranno Di preciso Però comunque Già vi ho fatto capire Più o meno Come sarà la forma E fino a che Più o meno Una ventina di blocchi Ora non so Di preciso Mettiamo anche Una torcia qui Per sicurezza E scaviamo Già anche In basso Ok manca Soltanto la parte Superiore Ragazzi E già Il primo passo Diciamo Il primo punto Dell'acquario Lo abbiamo completato Ovvero il tunnel In vetro Quindi finiamo Ma qua sopra Torniamo Nel nostro magazzino Dove c'è La fornace Super mega Arci Iper Velocissima Mettiamo il vetro E praticamente Abbiamo completato Diciamo La task La Il mini Obiettivo Di oggi Opla Dovrebbe aver già finito Eh vabbè Era che è velocissima Sta cosa è bellissima L'adoro Tantissimo Ok Dovrebbe naturalmente Bastare Suro che è basso Perché comunque Dobbiamo fare Chissà Che altro tunnel Diciamo che È più o meno La metà Del tunnel principale Quindi dovremmo farcela Già Secondo me Con due stack Ce la caviamo Easy Ok Giovanni comunque Sta prendendo più o meno Forma Diciamo Ah ma qui ancora non l'avevo finito Attenzione Perfetto Finito E adesso Tocca qua Andiamo subito Di pavimento Facciamolo In ordine Ok Passo dopo passo Perfetto Che poi alla fine Raga Sto facendo il video In questo mondo Senza Diciamo Fare troppe cose Tutti in un solo video Anche perché me l'avete detto voi Perché me l'avete chiesto Video In cui faccio Poco a poco Le cose insieme a voi Non ad esempio Come Altri progetti Tipo come il mulino Che li ho fatti entrare Tutti in un episodio Anche se ci ho messo Cinque ore a farlo Quante ore ci ho messo Ve lo fate entrare tutti In un solo episodio Mentre questo qui Mega cuore Che almeno Raga Dico almeno Ci saranno qualcosa Come 8 ore di lavoro Cercherò di Distribuirlo appunto In questi 2 Barra 3 episodi Sicuro Quindi facciamo così E così Diciamo che nel quarto episodio Sarà tutto completato E ragazzi Il tunnel A forma di T E anche completo Questo qui Sarà appunto La forma Finale E ogni volta che passo Per di qua Vedo qualcosa Mezzo verde E penso che sia Un creeper E mi fa venire ogni volta La paura Che c'è il creeper Guardate che figata ragazzi Ci sta tantissimo Con il vetro fatto in questo modo Esce una cosa Veramente bellissima Immaginatevi già L'acquario Qui tutto Attorno Comunque ragazzi Come detto Il primo passo Per il mega acquario L'abbiamo completato Spero che questa idea Di fare Il progetto Il mega acquario Passo dopo passo Insieme Nei vari episodi Vi piace Fatemi sapere qua sotto Nei commenti E detto questo Direi che questo video Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo video finisce qui Spero vi sia piaciuto Se si Fatemi sapere un pollice in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare in descrizione Perché lì Sono tutti i video Nei miei social Come Instagram E Telegram Mi raccomando Sì oltre su entrambi E se ancora Non vi siete iscritti al canale Vi invito ad iscrivervi Volendovi iscrivervi al canale Basta che cliccate Nella lettera Che sta cuocendo lo schermo E se già l'avete fatto Potete cliccare Assista a destra Per vedere un altro mio video Noi ragazzi Detto questo Vi saluto E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti